Carenza idrica e siccità estiva hanno reso non poco difficile la vita degli agricoltori dell'area vestina. A questo si aggiungono le imposte salate che il Consorzio di Bonifica Centro ha inviato ai contribuenti, già tartassati dall'annata particolare siccitosa, che ha causato non pochi problemi alle loro attività. La diga di penne, che serve una superficie complessiva di 3.040 ettari, è completamente vuota ed interrata. La situazione sul territorio è abbastanza critica e soprattutto lo è stata quest'estate per mancanza di acqua e servizi all'agricoltura. È una situazione che chiaramente fa crescere il malcontento e la rabbia degli agricoltori, perché si pagano dei servizi ormai con contributi consortili in aumento negli ultimi anni, produttori che hanno avuto degli aumenti del 30, del 40%, ma a volte anche del 100% rispetto alle tariffe passate, che in assenza di servizi chiaramente fanno arrabbiare. Parlo io, parlo da produttore, produttore agricolo, ma chiaramente non posso omettere di precisare che anche in passato, in qualità di rappresentante di categoria, ho seduto per qualche mese all'interno del Consiglio di Amministrazione di questo consorzio. Pochi mesi veramente e veramente poco prima che il consorzio fosse effettivamente commissariato, a dimostrazione del fatto che non c'erano le condizioni per poter prospettare in quel momento effettivi cambiamenti. Passato qualche anno però, sul territorio quello che si evince è che la situazione non migliora e quindi anche quest'estate non solo non abbiamo avuto l'acqua nel momento di maggior bisogno, ma a ciò si aggiungono situazioni di disservizio, di obsolescenza delle condutture e di ritardo nei servizi di riparazione. I consorsi nascono per la tutela del patrimonio ambientale e territoriale e per la salvaguardia del patrimonio idrico e per i servizi idrici e anche per difendere il territorio dalla erosione del suolo, ma tutto quanto questo negli ultimi anni non c'è. Ci chiediamo se sia giusto continuare a tassare gli agricoltori con aumenti di tariffe per servizi che non vengono effettuati.